Il piano terra di casa Rossetti ora è la sala della Costituzione. Intitolata alla legge fondamentale della Repubblica Italiana, la stanza al pian terreno affacciata sulla panoramica lo jumbling di Vasto. Quella porzione dell'abitazione, che fu dell'illustre poeta vastese, ospiterà le associazioni. Al taglio del nastro, il 30 settembre, alla presenza delle autorità cittadine, ha provveduto il sindaco di Vasto, Francesco Menna. All'interno la sala è stata allestita installando ai muri una serie di targhe recanti gli articoli della Carta Costituzionale del 1948, che racchiudono i principi fondamentali della Repubblica, oltre alle foto, corredate da alcuni cenni biografici, delle madri costituenti. Un luogo prezioso, ha detto Menna, per i soggetti che se ne serviranno, le associazioni e le realtà del volontariato, una rete che, fortunatamente, esprime un radicamento ed una vitalità straordinari, di cui beneficia l'intera comunità cittadina, a partire dall'amministrazione civica. Sono tante, ammette il sindaco, le situazioni emergenziali che stringono una popolazione di oltre 42 mila residenti e che, quotidianamente, per ragioni lavorative e di studio, assorbe un numero sempre crescente di pendolari dal territorio comprensoriale. I servizi sociali comunali sono chiamati a far fronte ad una vasta gamma di bisogni che devono trovare una rispondenza in termini di servizi adeguati, anche innovativi. Sono orgoglioso del fatto che, pur in un quadro di complessiva riduzione dei finanziamenti sovracomunali, il nostro comune, ha rivendicato Menna, non ha diminuito di neppure un euro le risorse destinate a questo comparto strategico.